Ehi, sei già qua? Ciao, come stai? Bene, bene. Finalmente un posto tranquillo. Mi voleva un caffè, bella vista, bella vista. Un caffè per lui, perfetto. Per me è un succo alla pesca, eccomelo, anche alla caccia. Perfetto. Li stanno occupando tutti quelli anziani che sicuramente... Scusaci. Dicci che fanno case. Non hai capito. Sono quelli della Sad Music. E chi sono? Come chi sono quelli della Sad Music? Ragazzi, ma siete quelli della Sad Music? Non hai capito. Fanno spettacoli in giro. Tutta la Sardegna. Ah, tipo, ci sono le divas che ti ballano la disco dance. Quelle, Daniela e Stefania, ciclavano la musica di liscio. Anche se sono un po' di liscio, però lo stesso te l'hai fatto. Poi c'è la situa, balla la vita, e lì ciclavano i movimenti di bacino che è ma mamma mia, latinoamericano, ho capito? Eh no! Ci sono micigliate, sono. Voi che... bicchieria. Musiche etiche. Eh! Queste qua, ti riempiono piazze, locali e soprattutto il cuore. Eh, quello che ci vuole. Quello devono riempire. Tutto dal vivo, perché sono talmente stronate che dal morto non riesce bene. Fidati, Neno, hai una piazza, chiamala. Voleva il numero per portarvi in una piazza sua? Assolutamente sì, certo. 320-7608-145 Ok, grazie un po'. Pagare... bella vista, infatti. Sì. Eh, si paga qui, vieni. Si paga in macchina, ho la cassa lì, fila. Si paga qui. Sì. Andiamo, Ale. Ah, paga in macchina, ho la cassa lì, fila. Cioè, sta una persona scappando. Allora, per contattarci trovate qui sotto, in sovraimpressione, tutti i nostri recambiti, il numero di telefono, la pagina Facebook e il nostro sito www.stefaniedanielabascio.com Mi raccomando, contattateci e sarà un successo. Ciao! 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 Grazie a tutti